Salve a tutte e tutti, io sono Valentina Cefarelli e oggi vi parlerò di permacultura a misura di bambino. Una ricerca condotta dal 2015 al 2018 con la collaborazione di molte organizzazioni europee su come applicare la permacultura nell'ambito dell'educazione per bambini dai 3 ai 12 anni. Cos'è la permacultura? È una risposta alle sfide dei nostri giorni. Si basa su tre etiche. La cura delle persone, ovvero come avere cura e rispetto di se stessi e degli altri. La cura della terra, come avere uno stile di vita in armonia con la terra e le sue leggi. E l'equa condivisione, che pone l'accento sull'uso consapevole delle risorse e la condivisione di queste per le generazioni presenti e future. In questo libro, permacultura a misura di bambino, troverete moltissimi spunti pratici che si rivolgono a insegnanti, educatori, genitori e chiunque abbia a cuore, l'educazione e la sostenibilità per i bambini. Una guida ricca di spunti e di attività perché la permacultura diventi un vero e proprio stile di vita e non solo un approccio teorico. Ti auguro buona lettura!